Sì, è un'iniziativa che vuole sostenere e dare la carica finale a questa corsa di Pierfrancesco Maiorino e il miglior candidato possibile per scrivere una fase nuova di cui Regione Lombardia ha molto bisogno e ne hanno bisogno le persone che vivono in questa regione sotto il pessimo governo di questi più di vent'anni insomma di governo delle destre. Siamo qui per mettere al centro la sanità pubblica, universalistica siamo qui per mettere al centro il diritto allo studio, il diritto alla scuola siamo qui per mettere al centro il diritto alla casa, che è un diritto fondamentale purtroppo dimenticato da chi governa questa regione e siamo qui anche per rinnovare il nostro impegno sul tema del clima dell'emergenza climatica, proprio in questa città visto la forte mobilitazione delle giovani generazioni ecco siamo qui per dare rappresentanza e voce a chi troppo lungo in questa regione non l'ha avuta Le opposizioni qui e anche nel Lazio si sono presentate divise, Maiorino poco fa ha fatto un appello al voto disgiunto lei lo supporta e lo condivide? Guardi, io penso che abbiamo fatto lo sforzo per queste regionali di costruire alleanze solide facendo appello all'unità delle forze alternative alle destre qui in Lombardia siamo riusciti a costruire un'alleanza molto solida che sono convinta possa fornire l'alternativa che ci serve dopo questa pagina delle destre quindi io sì, sono al fianco di Pierfrancesco Maiorino e sono contenta che si sia costruita un'alleanza larga perché proprio la sua capacità amministrativa ma anche politica ha permesso di trovare una convergenza sui temi è proprio sui temi che riusciamo a costruire le alleanze al meglio e faccio anche un augurio forte ad Alessio D'Amato che in questo momento sta anche chiudendo la sua campagna elettorale nel Lazio certo alleanze diverse ma il Partito Democratico avrà sempre quello spirito unitario per la responsabilità che dopo la sconfitta del 25 settembre credo che debbano sentire tutte le forze di opposizione per trovare unità su temi fondamentali come il salario minimo, come il congedo paritario, come il contrasto a questa emergenza climatica Bonaccini ha detto che lei non pronuncia mai le parole impresa e crescita, come comenta? che dovrebbe venire più spesso ai nostri comizi che comunque non credo che il PD abbia perso le elezioni, perso molti elettori perché non pronuncia abbastanza la parola impresa o crescita ma forse perché non ha fatto abbastanza contro la precarietà noi in questa sfida stiamo mettendo al centro tre grandi temi il contrasto a ogni forma di diseguaglianza perché sono aumentate attraverso la crisi economico-finanziaria e poi quella pandemica il contrasto alla precarietà del lavoro perché purtroppo anche gli errori che ha fatto in passato il PD hanno fatto sì che oggi le giovani generazioni conoscano soprattutto, quasi esclusivamente, contratti a termine contratti precari, salari da fame e poi la grande questione appunto della conversione ecologica che invece riguarda proprio come una politica possa rimettere al centro una visione che accompagni tutta la società lavoratrici e lavoratori a un grande investimento sulle competenze che servono per guidare questa transizione ecologica e digitale ma anche le imprese, soprattutto quelle piccole e medie tante delle quali hanno già capito che puntare sull'efficientamento energetico, sull'economia circolare e sull'energia rinnovabile è un vero modo per creare buona impresa e soprattutto nuovo lavoro di qualità Grazie